Buon pomeriggio a tutti voi, siamo al quarto giorno della nostra novena, anche oggi chiediamo al Signore la grazia del Suo Santo Spirito, crediamo con forza che il Signore è con noi nel nostro cammino di fede, che la Vergine Maria ci custodisce e che l'intercessione del Cotto Lengo ci permette, nell'ascolto della parola, nell'ascolto tra di noi, di poter vivere questo tempo come tempo di grazia, per poter insieme in questo tempo, con tutte le sue complessità personali, sociali, mondiali, provare a guardare con speranza al futuro, prendendo questo presente come un dono di grazia. Anche oggi cominciamo ad entrare nella nostra meditazione facendoci aiutare dalla parola che la Chiesa ci offre in questo 24 aprile. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi, quello che poteva essere per me un guadagno l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo, e questo perché io possa conoscere Lui, la potenza della Sua risurrezione, la partecipazione alle Sue sofferenze, diventandogli conforme nella morte con la speranza di giungere alla risurrezione dei morti. Il quarto luogo che visitiamo insieme, il quarto luogo di povertà, sono i beni. I beni intesi come le cose, la roba, la proprietà, gli oggetti. E' interessante come la stessa parola che usiamo per definire appunto queste cose, queste proprietà, queste robe, questi oggetti, il denaro, eccetera, ha già in sé una connotazione positiva, i beni. I beni sono un bene, sono bene. Ed in effetti è giusto, è giusto usare questa parola, perché ciò che è creato è dono di Dio, ciò che è creato è una cosa buona, ci direbbe il libro della Genesi. E anche ciò che viene dall'intelligenza, dalla capacità tecnologica degli esseri umani, dall'aver applicato la capacità creativa di Dio è un bene. E allora perché dico che i beni sono un luogo di povertà? Se i beni della natura, i beni in qualche modo che vengono dall'intelligenza del Signore, sono bene. Non semplicemente perché tanti non hanno i beni necessari a vivere dignitosamente. E in questo tempo quante povertà bussano alla nostra porta? E quante busseranno nei prossimi mesi, se non addirittura nei prossimi anni? I beni sono certamente un luogo di povertà, nel senso che ci sono un sacco di persone in tutto il mondo e accanto a noi che non hanno i beni necessari. Ma non è quella la povertà su cui vorrei puntare la nostra attenzione, ma al contrario quella povertà che nasce nell'avere i beni, nell'avere le cose. Quella povertà che nasce, quella fatica che nasce, quella difficoltà che nasce proprio dal fatto che i beni esistano, che i beni ci siano, che i beni io li abbia. Non è quindi una questione che riguarda i ricchi, è qualcosa che riguarda tutti noi, ricchi, poveri, più o meno ricchi, più o meno poveri. È una povertà esistenziale, è una povertà legata alla nostra condizione umana. Ecco perché è una povertà che in qualche modo possiamo indagare insieme, che possiamo condividere insieme, è una povertà da cui nessuno in qualche modo si può dire esente. No, non mi riguarda perché il mio conto in banca non c'è, oppure non mi riguarda perché il mio conto in banca è già fin troppo ciccio. Non c'entra niente. Anzi mi viene da dire forse che soprattutto a chi ha fatto voto promessa di povertà queste considerazioni possono essere interessanti. Allora per partire con il piede giusto nella riflessione riprendiamo il versetto chiave di Paolo che ci ricorda quello che oggi in modo particolare ci interessa, il punto d'innesto della nostra meditazione. Scrive Paolo, l'abbiamo appena ascoltato, quello che poteva essere per me un guadagno l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo. La chiave è sempre Gesù. La chiave è sempre Gesù che è vero Dio e vero uomo. Questo non dobbiamo, non possiamo dimenticarlo mai, anche vivendo, soprattutto vivendo il tempo della resurrezione, il tempo di Pasqua. Gesù è vero Dio è vero uomo. Ogni volta che escludiamo uno dei due aspetti facciamo in termini tecnici un'eresia, cioè facciamo una scelta, una scelta che è sempre escludente, esclude sempre l'altro aspetto. E allora se facciamo una scelta che sia nella direzione della divinità o che sia nella direzione dell'umanità perdendo l'altro pezzo, siamo eretici, cioè usciamo dal cristianesimo, usciamo dalla verità, usciamo da una via, da una strada che sia autenticamente salvifica. La chiesa, quello in cui crediamo, quello in cui speriamo, quello in cui tentiamo di vivere, è sempre et, 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 non è mai out, out, o, o. La chiesa è cattolica e universale davvero se vive questa dimensione. Se vive nella dimensione cristologica, cioè che tutto è contemporaneamente, può essere contemporaneamente, deve essere contemporaneamente, partecipe tanto della divinità quanto dell'umanità, fontale di Gesù, relativa nostra, di ciò che ci circonda. I beni di per sé appartengono all'umano, alla dimensione umana e quindi sono importanti e quindi sono necessari. I beni non vanno aboliti, non vanno esclusi, non vanno disprezzati. La proprietà privata non è un furto, Marx aveva torto. Va capita, va compresa, c'è l'aspetto della divinità da considerare. Chi fonda la propria vita sulla provvidenza, come la piccola casa, non pensa perché c'è la provvidenza che si possa gettare via il cibo o amministrare senza criterio il denaro. Tanto ci pensa la provvidenza. La provvidenza non è un tappabuchi. Se noi ci affidiamo la provvidenza in questo modo, puntiamo sulla divinità, certo, ma lasciamo da parte l'umanità e quindi facciamo di nuovo un'eresia. Che cosa significa dunque dire che i beni sono un luogo di povertà? Paolo scrive guadagno. Lasciare è un guadagno a motivo di Cristo. Guadagno è perdita, perdita è guadagno. Come stanno insieme? Partiamo da un presupposto, da una delle due possibili eresie. Se puntiamo soltanto sui beni per essere sereni, per essere tranquilli, per essere in pace, allora lì in quella modalità di vivere scatta l'eresia. Lì scatta la povertà più nera. Se i beni sono l'unica, l'unica, nostra fonte di serenità, di pace, di tranquillità, di vita, allora siamo eretici e quindi stiamo sprofondando in una povertà buia. Faccio un esempio che sembra marginale ma che invece forse tocca nel profondo ciascuno di noi. Partiamo dalla nostra identità, da chi siamo, dalla nostra storia, da dove e come riconosciamo di avere una storia che ci sta alle spalle, soprattutto nella parte piacevole, nella parte che ci rasserena, nella parte che ci fa sorridere, nella parte che ci in qualche modo dona una carezza. La nostra storia, la nostra identità personale è sempre legata, come giusto che sia, a dei beni. È legata a degli oggetti, per esempio alcuni oggetti che ci ricordano l'infanzia. Non so, io ho in mente il triciclo su cui andavo da bambino, su cui è andata mia sorella, su cui sono andati i miei nipoti. Un triciclo qualunque, un triciclo di ferro con un sedile che poi è andato distrutto e che mio papà aveva sostituito con un sedile di legno. Quel triciclo, mi basta vederlo, c'è ancora in soffitta, è la mia infanzia. O la casa dove ho abitato. Oppure pensiamo a qualcosa che ci è stato lasciato dai nostri genitori. Un anello di nostra madre, un orologio di nostro padre, un cappello, un abito, una giacca, una sciarpa, un fazzoletto. Evocano la nostra infanzia, in qualche modo ci riportano alla nostra identità. Sono oggetti a cui siamo attaccati, letteralmente attaccati, attaccati sentimentalmente, attaccati affettivamente. siamo ancora nel giusto. Però quanto questi oggetti pesano? Quanto siamo potenzialmente angosciati nel perderli, nel non trovarli più, nel doverli vendere? Quando, che ne so, la casa della nostra infanzia viene venduta? Oppure nella divisione di un'eredità va a una parte della famiglia e non alla mia? E io non ci posso più andare, non posso più frequentare quel luogo. Quanto questo mi angoscia? Quanto la mia identità, che è giustamente legata di ricordi, però ne viene stravolta? Quante notti perdo a motivo di quei fatti? non è tanto una questione di se accade, è una questione di quanto accade. Proviamo a pensare quanto la nostra serenità personale dipende dall'accumulo di cose, dall'accumulo anche di cose inutili. Quando ero in seminario c'era la buona e santa abitudine di cambiare ogni anno la stanza, che significava traslocare fondamentalmente, significava mettere in soffitta del seminario tutti i libri, tutte le cartacce, fare i bauli, pulire la camera, pulire la stanza e poi a settembre-ottobre prendere, tra virgolette, possesso per un anno di un'altra stanza. Ecco, quel passaggio da un anno all'altro, da una stanza all'altra, era veramente provvidenziale. Quante cose buttavo via? Quanti pezzi di carta buttavo via? Quanti fascicoli, riviste, cose buttavo via? Perché c'era quell'articolo, perché c'era quella parola, perché c'era quella fotografia? Buttavo via. Quante volte noi abbiamo bisogno di due stanze, anche e soprattutto, forse lasciatemi dire così, nella vita nostra, nella vita di consacrati, nella vita di religiosi, un magazzino con dentro non sappiamo neanche più che cosa, ma quella è la nostra storia, quelli sono i nostri studi, quelli sono i nostri incontri, magari in quella rivista ho scritto un articolo, magari lì c'è una fotografia che ricorda la mia professione, e allora accumuliamo, accumuliamo cose inutili, perché non si sa mai, perché, perché quelli siamo in fondo noi. La lista potrebbe, la lista degli esempi, purtroppo potrebbe essere molto lunga, perché questa è una povertà strisciante di cui non ci accorgiamo, ma in cui siamo davvero dentro. In cui siamo davvero dentro, lasciatemi dire così amici, soprattutto se abbiamo fatto un voto di povertà o una promessa di povertà. Perché pensiamoci un po' sul serio, poveri, davvero, almeno qui in Occidente, qui a Torino, non lo saremo mai. È facile vivere dell'essenziale quando sai che l'essenziale lo avrai sempre, garantito. È facile pontificare sul cibo quando di fame noi non moriremo mai. Non moriremo mai. È facile avere solo quattro cose da mettersi quando sappiamo che se avessimo bisogno di altro, quell'altro, in un modo o nell'altro, appunto, arriva. È facile vivere di provvidenza, sapendo che siamo in un fiume, in un canale, in cui la provvidenza c'è in maniera istituzionale, istituzionalizzata. Nello stesso tempo è altrettanto vero che in certe situazioni vivere l'obbedienza e vivere la povertà diventa umiliante, diventa faticoso. Avere magari bisogno di qualcosa che forse è anche considerabile superfluo, ma in quel momento forse è un senso e si fa fatica a chiederlo. Avere bisogno magari di qualche tipo di cure, aver bisogno, che ne so, aver bisogno di uno psicologo e non avere il coraggio di andare dai propri superiori per dire che c'è bisogno dei beni per poter accedere a determinate situazioni, determinati servizi. Magari ce ne vergogniamo. Cosa penseranno di noi? Quando dobbiamo dipendere da qualcuno per queste cose c'è sempre legato il fatto dell'avere paura dell'essere giudicati, di non essere riconosciuti in gamba come si pensava di essere o come abbiamo noi stessi pensato di noi stessi. La fatica del dire che qualche cosa è cambiato e allora forse magari mi mettono da parte, io non ho nessuna voglia di sentirmi messo da parte, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non banalizzo ha fatto, anzi, tutte queste fatiche. Ma è proprio perché ci sono queste fatiche che dico che i beni sono un luogo di povertà che necessita della visita del Signore. Perché i beni in se stessi, nella loro dinamiche, nel come sono fatti, nel come entrano nella nostra vita, ma soprattutto i beni nella loro gestione sono scivolosi. I beni sono un luogo ambiguo, sono un luogo che sta a metà tra l'umano e il divino. Tante volte troppo umani e quindi certe volte disumani, altre volte presuntamente troppo divini. È vero, il cottolengo aveva ragione da vendere quando per il Signore dobbiamo pensare alle cose migliori e quindi è giusto che il Signore sia celebrato e consacrato in un calice come si deve, è giusto che i paramenti siano come si deve. Ma tra come si deve e esagerare e gli armadi di certi preti che sono pieni di calici e pieni di paramenti, che senso hanno con la dignità e la nobiltà della liturgia, col fatto che per il Signore dobbiamo eccetera eccetera eccetera. È scivoloso, i beni sono scivolosi da una parte e dall'altra. Bisogna fare un mestiere che è proprio di un cristiano, l'equilibrista. Dobbiamo camminare su questo filo e il filo dei beni è un filo molto stretto, è un filo molto ballerino, è un filo che si apre potenzialmente su un grande abisso. Dobbiamo camminare su questa povertà. Come facciamo allora a farlo senza essere eretici? Come facciamo a essere equilibristi tra l'umano e il divino? Come facciamo a fare in modo che il Signore visiti questa povertà, visiti questo buio, illumini questa potenziale grande lunga notte? La Chiesa amici ci dà due strumenti importanti. Il primo è il sacramento della riconciliazione. Il sacramento della riconciliazione ci mette sul filo quando siamo cascati da quel filo, quando siamo andati per terra, quando l'equilibrio non siamo stati capaci di mantenerlo e siamo scivolati da una parte o dall'altra. Il secondo strumento che la Chiesa ci offre è l'obbedienza. L'obbedienza ai superiori per chi li ha, l'obbedienza al magistero nelle grandi cose importanti, l'obbedienza alla parola di Dio letta con intelligenza sulle gambe della Chiesa come scrive San Pietro e poi l'obbedienza ad una coscienza retta, ad una coscienza ben formata, una coscienza che ci guidi nel fare, una parola cara al Papa, nel fare discernimento. Questi sono gli strumenti che ci permettono di avere il bilanciere, quell'asta lunga che gli equilibristi hanno per camminare sul filo. La grande asta che ci fa camminare sul sbaratro di questa povertà e giungere alla meta, capendo cosa è guadagno e cosa è perdita in vista di Cristo, capendo qual è il giusto spazio che i beni devono avere e qual è lo spazio sbagliato che i beni non devono occupare mai. L'equilibrio tra l'umano e il divino che ci umanizza nelle nostre scelte, nell'usare i beni, nell'usarli per noi, perché vanno usati anche per noi, nell'usarli per gli altri e con gli altri, che ci divinizza, capendo che questi beni sono una forma penultima della nostra esistenza, capendo che i beni non sono quello che ci porteremo dall'altra parte, capendo che i beni devono essere e sono sempre soltanto uno strumento, che sono qualcosa che ci ricorda che abiteremo un giardino e che questo giardino sarà fatto direttamente dal Signore, sarà fatto esclusivamente dal Signore, in cui non avremo più bisogno delle luci, delle lampade, non avremo più bisogno del mangiare, del dormire, del vestirci, perché sarà il Signore che ci darà Lui la veste, quella veste candida per abitare ancora una volta, perché quella è la nostra meta e rimane sempre la nostra meta, per abitare il paradiso, per abitare l'eternità. Dobbiamo essere ricchi, ricchissimi, ricchissimi di umanità, ricchissimi di divinità, usando le ricchezze per essere serenamente poveri. Il Signore anche oggi ci benedica, la Vergine Santa ci custodisca e San Giuseppe Benedetto Cottolengo ci prenda per mano nel cammino della vita. Deo, grazie.